Il diavolo ha due armi potentissime per distruggere la Chiesa, le divisioni e i soldi. Durante l'omelia della Messa celebrata a Casa Santa Marta, Papa Francesco è tornato a parlare delle divisioni che Radona al suolo, ha precisato, come una guerra. Commentando le parole che San Paolo rivolge ai Corinzi, il pontefice ha chiarito che il diavolo cerca di estirpare la radice dell'unità cristiana con gelosie e ambizioni e che il terrorismo delle chiacchiere uccide con la lingua. Io vi chiedo di fare tutto il possibile per non distruggere la Chiesa con le divisioni, siano ideologiche, siano di cupidigia, di ambizione, siano di gelozie. E soprattutto di pregare e custodire la fonte, la radice propria dell'unità della Chiesa, che è il corpo di Cristo, che noi tutti i giorni celebriamo il suo sacrificio nell'Eucaristia.